tutto nasce da questo che sembra un semplicissimo connettore si chiama cap un brevetto innovativo che è stato premiato a las vegas più di 20 anni fa realizzato da una azienda di manoppello ne parliamo oggi della nostra rubrica dedicata alle startup innovative ingegner giovanni pugliese lei ha brevettato appunto questo oggetto che semplifica diciamo così la vita per chi deve lavorare con i cavi in connessione da un connettore come questo ingegner pugliese voi avete sviluppato adesso una serie di prodotti altri brevetti che guardano al mondo della fibra ottica quindi siamo nella piena attualità cosa avete fatto in particolare sulla fibra ottica dal 2014 la fibra ottica si sta espandendo sempre più e sta entrando nelle nostre case questo è il connettore della fibra ottica il problema per entrare nelle nostre case che questo connettore difficilmente entra nelle canaline abbiamo inventato un modo di pre connettorizzare il cavo della fibra ottica con dimensioni inferiori a quelle del cavo stesso il cavo arriva così nelle mani dell'installatore l'installatore usando il cavo del cavo stesso lo porta in loco toglie questa protezione molto facilmente e il cavo appare in questo modo abbiamo un kit di componenti che noi andiamo a mettere nel connettore stesso inseriamo il tutto abbiamo un connettore finito pronto per l'uso in 30 secondi abbiamo brevettato anche quello che abbiamo chiamato easy link io decido la presa dove voler far arrivare la mia fibra ottica la faccio arrivare tramite le canalizzazioni interne esistenti chiudo con un coperchio a scatto proteggo la mia fibra e poi richiudo la placca esistente con le viti originarie senza ulteriori lavori di muratura senza un foro a muro o senza far vedere un cavo su un battiscopa l'agenzia di sviluppo della camera di commercio chieti pescare partner della rete enterprise europe network che offre una serie di servizi specializzati alle piccole e medie imprese dall'innovazione al trasferimento tecnologico fino all'internazionalizzazione oppure dalla comprensione di quelli che sono i programmi europei all'istaurazione di un dialogo costante con le istituzioni affinché questi programmi siano sempre più calati sulle piccole realtà imprenditoriali del nostro territorio è possibile rivolgersi all'agenzia di sviluppo consultando il nostro sito e prendendo un appuntamento l'azienda che abbiamo oggi sentito per esempio si è rivolta all'agenzia di sviluppo per trovare dei partner commerciali all'estero grazie mille